La gente si organizza per capire se i loro nomi risultano negli elenchi delle persone delle quali gli hacker che hanno attaccato l'ASL hanno pubblicato dati sensibili. Una mossa che poi potrebbe portare ad eventuali richieste di risarcimento danni, ma si è nella fase preliminare. Sono tanti però i cittadini, oltre un centinaio, che si sono rivolti a legali Marco Colantoni del Foro dell'Aquila e Pierluigi D'Amore del Foro di Avezzano, anche di fuori regione. Potrebbe aprirsi un maxi contenzioso se sarà dimostrato il danno. Ma è presto per parlare di richieste risarcitorie. Quello che chiediamo sono informazioni in merito all'eventuale diffusione dei dati, perché allo stato attuale informazioni non ne abbiamo. E questa è la fase prodromica per valutare quello che potrebbe essere un danno risarcibile. Però allo stato attuale siamo a livello della richiesta di informazioni. In un secondo momento, in base all'eventuale risposta che ci pervenisse dalla ASL, insomma decideremo la linea da seguire. Però allo stato attuale chiediamo informazioni. E questa è proprio una delle richieste. Le misure che sono state messe in campo prima dell'evento e ovviamente quelle che sono state adottate subito dopo l'evento per porvi rimedio fondamentalmente. Anche in base a questo si valuterà l'iter da seguire in un momento successivo. I hacker, in una lettera pubblicata, avevano invitato i cittadini stessi a chiedere i danni. Loro invece chiedono 3 milioni di bitcoin per ripristinare il tutto. Sulla vicenda c'è molto malumore, soprattutto dopo la diffusione di dati di bambini in cura nel reparto di neuropsichiatria infantile. Un fatto molto grave. Ma non c'è solo la violazione dei dati, perché il danno va sempre dimostrato. C'è anche tutto il problema dei disservizi che la gente sta subendo in questo momento. Una delle strade potrebbe essere la class action, ma anche su questo punto si sta valutando. Difatti anche qualche nostro cliente lamenta questi problemi dei disservizi. Dobbiamo vedere, in effetti con queste richieste fatte all'ASL, qual è la portata degli stessi per poi fare tutto un ragionamento nel proseguo per vedere se in effetti tutto ciò legittimerà un'eventuale azione risarcitoria. La strada potrebbe essere la class action, se ne parla spesso di questo? Quella della class action è un argomento altrettanto delicato da poter affrontare. Bisogna vedere anche lì se ci saranno i presupposti per poter affrontare questo tipo di discorso. C'è anche il discorso dell'utenza di fuori regione che potrebbe però rivolgersi a voi. Qualche richiesta c'è stata, avvocato, perché persone che sono comunque transitate per il nosocomio aquilano? Qualche richiesta è intervenuta anche fuori perché l'ASL 1 di Avezzano sul Monalacuila è un ASL importante per cui il bacino d'utenza è abbastanza esteso.